Allora, come voi sapete, ci sono due content creator. Uno è Marco Lecchi, da poco si è laureato alla Bocconi, si occupa molto della parte lusso, marketing e aziende di un certo target. L'altro è Andrea Zanon, lui si è laureato alla Cafoscari di Venezia, anche lui in economia, e entrambi hanno dei canali molto interessanti per chiunque si è interessato a quel tipo di carriera, ma in generale come mindset per studenti universitari con una bella progettualità, vi raccomando di seguire i loro video. Ecco, proprio credo ieri hanno pubblicato un video insieme nel canale di Marco, in cui danno una serie di consigli combinati su come affronterà meglio la carriera per il mondo economia-finanza. In questo momento Andrea sta facendo un internship da Google, ha fatto un master a San Gallen, quindi sto parlando di due personaggi che per quanto giovanissimi hanno veramente tanto da dire. E perché vi consiglio di approfondire quello che dicono in questo video, guardarlo e poi seguire anche i loro canali? Perché uno dei punti fondamentali è qual è la vostra fonte di informazioni. A me è capitato spesso durante le consulenze di parlare con persone che stavano prendendo delle decisioni o comunque stavano creando un mindset o un pattern basato su bias o preconcetti o rumors. E questa è una delle cose più pericolose. Per cui uno dei miei consigli base è assicuratevi di far riferimento a fonti che siano credibili. Cioè, se sono interessato a una carriera nel privato, non posso parlarne con chi ha fatto una carriera nel pubblico, insegnanti, professori. Perché per quanto possono essere interessati, per quanto vogliano magari contribuire, non hanno la minima idea di che cosa stanno parlando quando escono dalla loro area di competenza. Oppure, se volete considerare le varie opzioni per il dopo laurea, ragazzi non potete parlare con i vostri compagni di corso. A meno che non abbiano dei motivi estremamente specifici per cui sanno cosa c'è dopo. Qualcuno in famiglia, partecipazione ad internship, collaborazioni con aziende. Ma altrimenti non muovetevi tra i pari per cercare informazioni dei livelli successivi, ma muovetevi su fonti che abbiano la possibilità di attingere a quella che è la realtà del punto di arrivo che vi interessa. E questo ovviamente vale anche per tutti gli argomenti come scelta di dove andare a vivere, considerazioni sulle nazioni, percorsi professionali. Perché una delle cose che polarizza spesso i commenti e trovo abbastanza buffe quando vedo le persone che si scagliano contro l'università specifica o contro la nazione, la città o delle cose di cui probabilmente non hanno la minima cognizione, ma fa parte di un gioco di schieramenti, la polarizzazione che tanto piace allo schermo. E questo non fa che danneggiarvi, perché qualunque scelta, qualunque idea o qualunque pianificazione fatta sulla base di preconcetti, rumors e via dicendo, non farà che danneggiarvi. Per cui assicuratevi di far riferimento a delle fonti attendibili, perché praticamente questa è la qualità della materia prima, degli ingredienti che mettete nel vostro processo di preparazione, formazione e pianificazione, quindi esecuzione della vostra carriera. Per cui Marco Lecchi e Andrea Zanon sono decisamente due ragazzi in gamba che hanno già fatto tanto. Probabilmente non vi possono dare consigli su come gestire una carriera ventennale, perché si stanno approcciando adesso al mondo del lavoro, ma lo stanno già facendo in maniera molto ottimizzata, molto pianificata, con tanti data point, hanno collaborato con diverse aziende, conoscono professionisti, per cui quello è a mio avviso un esempio di sorgenti assolutamente affidabili. Ve lo volevo segnalare appunto perché è molto interessante come video, credo che vi possa dare un po' di spunti di riflessione sulle attività da fare extracurricolari, sul come migliorare il proprio curriculum, no? Perché anche in quel caso uno è alla Bocconi, è già quello il nome che ti dà un certo vantaggio competitivo per certe selezioni. L'altro invece ha studiato in una università pubblica e quindi si confrontano anche su come magari compensare determinate cose a livello reputazionale o come opportunità. Per cui molto molto consigliato. Bellissimo video, come sempre da parte di questi due ormai professionisti.